Si è concluso l'iter per la giudicazione della gara d'appalto del manto sintetico dello stadio comunale Marco Tomaselli, una vicenda che aveva avuto inizio sin dalla scorsa amministrazione. Dunque nel giro di un mese probabilmente inizieranno i lavori, questo ha dichiarato il assessore a ramo Fabio Caracausi e dunque il nuovo manto di erba sintetica sarà pronto per l'inizio della prossima stagione agonistica una volta che i campi covid permettendo potranno essere aperti. Nei giorni scorsi la commissione ha bagliato tutte le proposte e ha chiuso la gara. Dunque per la trasformazione del manto di gioco in erba sintetica il comune ha ricevuto un finanziamento di 960 mila euro grazie all'intercessione della federazione italiana rugby. Il finanziamento però dopo aver avuto qualche periodo dubbio giusto appunto per la stasi rispetto al manto erboso perché non era più in costruzione quello che era stato ordinato precedentemente. è la retrocessione da parte dell'azienda che aveva vinto la gara quindi che si è fatta un passo indietro rispetto alla vittoria e dunque ai lavori. Adesso pare che sia concluso tutto l'iter e quindi dal prossimo mese cominceranno i lavori di rifacimento.